Un sogno continuo, inaristabile, ma anche incredibilmente reale. La favola di Fabiano Parisi continua e si tinge anche d'azzurro. L'europeo Under 21 sarà la sua ennesima vetrina internazionale, con l'esordio il 22 giugno alle 20.45 in diretta Rai contro la Francia. Attifare per il pendolino sarà ovviamente la sua serino alla quale si aggiunge l'intera Irpinia. Con un posto il comune è inaugurato la stagione del tifo per il suo concittadino illustre. Dopo 20 anni, scrivono, la nazionale Under 21 proverà a riconquistare il titolo europeo di categoria, che porterà in dote anche la partecipazione alle Olimpiadi 2024 di Parigi. Tra i 23 azzurrini convocati dal nostro commissario tecnico figura Fabiano Parisi, i cui successi calcistici ci rendono sempre più orgogliosi di lui. Dopo l'esordio con la Francia, l'esperienza proseguirà tre giorni dopo contro la Svizzera alle 18 in diretta su Re 2 e si chiuderà poi il primo atto contro la Norvegia a mercoledì 28 alle 20.45 sul Re 1. Anche dalle sue prestazioni alle europee dipenderà il calciomercato, che lo vede decisamente protagonista. Il procuratore di Parisi sta giocando su più tavoli, compreso quello della Juve, che ha bisogno di un terzino sinistro. Il classe 2000 potrebbe fare al caso suo, facendo felice anche l'avellino pronto ad incassare il 10% dell'intera operazione.